Ciao, oggi siamo qui nella suggestiva location della terrazza Aperol che da sul Duomo, quindi abbiamo questo Duomo alle spalle, questa piazza Duomo gremita di turisti, a parlare con Fabio Iannione di Qualcomm che ci andrà a spiegare qualche novità nel futuro della società. Ciao Fabio. Inizio chiedendoti di quella che forse è una delle evoluzioni più interessanti di una tecnologia che in realtà noi abbiamo già in tasca, che è l'LTE, che però sta prendendo una piega diversa, viene utilizzata anche per cose che non sono solo la semplice connettività mobile alla rete internet, ma anche per connettere più device e per aprire tante possibilità, perché si parla di LTE Direct e di LTE Broadcast. Sicuramente con l'evoluzione dell'LTE due temi importanti saranno l'LTE Broadcast e l'LTE Direct, di cui vi menzionavi. L'LTE Broadcast in particolare rappresenta l'opportunità di liberare i contenuti, i contenuti ad esempio video, in qualità Ultra HD 4K, invece che costruzioni unicast come oggi, utilizzando risorse in modo efficiente, con una soluzione Broadcast quanto meglio. Questo consentirà da un lato di aumentare la qualità e di ampliare la qualità degli contenuti stessi, dal 4K all'oltre HD come dicevamo prima, e dall'altra parte di creare dei nuovi rischi esistenti per la funzione dei contenuti. Basta ripensare ad esempio che già in altri paesi si sta studiando l'opportunità di coprire in modalità hotspot, ad esempio determinate location, come può essere uno stadio, come può essere un wall. Con questa tecnologia LTE Broadcast, che noi vedremo già a partire dalla fine di quest'anno, che sarà l'anno prossimo, già sopportiamo i prodotti dei nostri chipset attraverso diversi segmenti di chipset, qualcosa del Dragon, parlo dalla dell'ITER fino al Live Level, in modo tale da abilitare una vasta platea di organizzatori. Questo quindi consentirà anche il caster, anche il provider, immaginiamo anche gli operatori che potranno tramite gli operatori dell'ETE a deliberare i contenuti in modo accessibile. L'ETE Direct dall'ortroverso lo presenta un ulteriore opportunità di evoluzione della tecnologia LTE, sempre una evoluzione, anche lo standard LTE, che vedremo sul mercato a partire dal 2017, su cui Qualcomm è già praticamente in lontana e che ci consente di abilitare scenari device to device, di comunicazione device to device, perché è importante perché ci sono altri protocolli, altre tecnologie che possono farlo, però in questo caso parliamo di una tecnologia estremamente performante, largamente diffusa perché parliamo di LTE, ma soprattutto che consente di coprire fino a un range di 500 metri, quindi immaginate che cosa significa che io da qui, ad esempio nella mia macchina guidando, posso sapere già quello che succede a una distanza di 500 metri, piuttosto che poter stare in una determinata posizione, una determinata location, rispettando attualmente la pratesi, perché la differenza è che non condivide la posizione, quindi tu sai che io sono in 500 metri di raggio, ma non dove, ma non dove, perché non c'entra il GPS se non voglio che c'entri, quindi non puoi identifichare la mia posizione, quindi rispetto al piano della pratesi e allo stesso tempo interagire con me in termini di notification, communication, quindi potrei avere informazioni utili, potrei condividere in modo social con te informazioni, però lo stesso te in un raggio così ampio di 500 metri, quindi completamente cambia il paradigma di comunicazione e questo lo vedremo di nuovo già nel 2017. Quindi abbiamo parlato di quella che è l'accezione mobile di comunicazione fra device dell'LTE, ma l'LTE può essere utilizzato, in realtà siamo già quasi pronti per utilizzarlo, anche per la comunicazione voce, perché adesso iniziamo ad introdurre un paradigma nuovo che si sta andando a diffondere, che è il voice LTE, il VLTE. Ecco, anche la voce dell'LTE è sfilata per il più un'evoluzione, quindi non sarà solo un mondo di dati, ma sarà l'LTE, vedrà anche qui migliorare la componente essenziale dell'aspetto di comunicazione che è la voce, in particolare già a fine anno, ci aspettiamo da molti operatori europei il lancio della voice over artificial, soprattutto BOPPE, e in alcuni casi è anche abbinato al presidito voice over wifi per cambiare le possibilità di comunicazione su diverse tecnologie in modo seamless, quindi sarà sempre più trasparente da un lato per il cliente capire che tipo di comunicazione sta svolgendo, una comunicazione tradizionale di tipo circuito, piuttosto che una voce di tipo internet based, come può essere il VLTE, e con dei rich media communication integrati, quindi immaginate di poter integrare perfettamente alla prossima, la comunicazione voce con contenuti, video, immagini, tutto in modo seamless, quindi con il VLTE, e allo stesso tempo trasparente anche attraverso layer di comunicazione come ad esempio integrando il voice over wifi. Quindi una grande opportunità da un lato per il cliente finale di allargare l'utilizzo della voce con dei contenuti sempre più ricchi e per l'operatore di darlo in modo più efficiente attraverso più layer di tasse. Maggiore qualità, quindi uno sfruttare il voice over LTE in una maniera molto utile da tutte e tra le parti, sia per il produttore, sia per il carrier, sia poi alla fine dell'utente che ha una migliore qualità e non dovrebbe avere problemi, costi aggiuntivi, perché è una tecnologia che già abbiamo. Assolutamente sì e soprattutto ci aspettiamo che sia anche un contenuto anche più ricco di comunicare attraverso la voce con il VLTE. Non è soltanto una nuova tecnologia di rete ma è di device, ma è soprattutto la possibilità di arricchire l'esperienza di utilizzo della voce per il cliente finale. Una parola che abbiamo sentito oltre a queste parecchio durante questa presentazione è introporabilità, quindi la capacità dei vari device di collegarsi, di comunicare fra di loro. E per fare questo, che comunque è una sfida alla base di quello che sarà il futuro di tutta questa industria, quindi l'Internet of the Teams e appunto diversi sistemi che vanno ad agire insieme, si parla anche di un framework che possa unire tante tipologie diverse, un framework che è nato da una vostra idea e adesso si sta sviluppando in una maniera particolare. Ecco con Ojoin quello che stiamo cercando di fare è avere come obiettivo quello di risolvere un grande problema per l'abilitazione dei servizi dell'Internet of the Evidence, ossia l'interconnessione degli oggetti in ambito o uno anche in ambito outdoor. Il problema è farli parlare tra di loro con un linguaggio comune e evitare situazioni di silos non comunicanti tra di loro. Per questo già da qualche anno Qualcomm ha sviluppato come dicevi Ojoin che è un software framework messo a disposizione in modalità open source da parte dell'industry e oggi gestito sotto l'ambito della Ojoin Alliance e che già aggrega con sé i 150 produttori del mondo consumer di oggetti che possono andare dai condizionatori ai TB, agli smart TB piuttosto che ai set of box, piuttosto che ogni altro oggetto alle luci che abbiamo normalmente in casa piuttosto che qualsiasi sia un oggetto In modo tale che tu, entrando per esempio con un tuo smartphone abilitato con un'applicazione Ojoin possa immediatamente in modalità seamless interagire con tutti gli oggetti che ti circondano che vengono probabilmente da produttori diversi perché quello che immaginavo è un ambiente multibrand nell'ambito home, il frigorifero che probabilmente non necessariamente deve parlare con il condizionatore o con altri oggetti con il tuo televisore ma in questo mondo noi li interconnettiamo attraverso un framework comune e questo ti consente ai service provider, ai produttori di device e soprattutto agli sviluppatori di applicazione perché noi insieme al Sine Alliance mettiamo a disposizione una SDK che consente di sviluppare applicazioni Ojoin in integrando questa soluzione e sviluppare le use cases che a questo punto mi rendono estremamente interessanti per l'utilizzatore finale abilitando finalmente quegli scenari di smart home di cui tanto si parla. Quindi come abbiamo visto alla fine la sfida che vi siete lanciati con l'Internet of the Things è molto interessante perché comunque vede una comunicazione su vari livelli e tra l'altro da parte anche di vari oggetti che abbiamo in casa e che non penseremmo che possano evolversi più di così ma che in realtà magari potranno darci una mano anche a fare piccole cose meglio di come le facciamo adesso quindi è tutto molto interessante io ti ringrazio Fabio e quindi per RedBall.com un saluto da Gianluca Cilignano e Fabio Ieiuni